ah bene triangolo hai capito passare alla schiena guarda ancora una volta ti mostra tutto tutto quello che sbaglia vieni con tra le gambe mi metto tra le gambe con la schiena giù con quell'altro sei stato così troppo tempo ti dicevo ogni 5 secondi devi cambiare posizioni si stai stato qui bravo quando hai fatto sui è venuto sopra però dovevi devi fare qualcosa vedi da qui si vuoi liberare ho provato a mettere si deve magari se tu ti stringi ricordi quando io dico quando io ti diciano ricordi questo me dice tu devi meterte laterale vedi 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 ve questo come si chiama tra le connoci quando hai il bolo cotto da questa posizione ricordi io ti ho mostrato anche tanto vuoi da questa posizione stai qui io stai qui basta ottenere questa posizione e inserire e in questo tutto con forza di tue braccia capisci? hai capito? tante cose però beh, ancora una volta in quattro qui questo, vedi? sono qui piego hop 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 e inserisco braccia molto più profonda qui, vedi? quando la braccia è pronta posso piegare con i ginocchi e chiudere fatto adesso fai questa cosa sinistra andranno sulla stella oppure il collo capito? e per ultima volta prova prova a essere attento da prima volta bene? questo che voglio da te è che tu sarai molto più attenti molto più guarda non lo faccio da solo vieni vieni ti mostro prima che ti copro con il stomaco mio pezzo ti copri anche se lui prende le mie gambe questo mi piace vedi? tira la mia gamba metto qui prima metà vedi? sono a metà presa fatta presa fatta poi con i ginocchio destra io devo aiutare vedi? piegarti e inserisco e avanti non lo faccio assicurare non lo faccio che cosa ho capito Ancora una volta. Facciamo quello prima. Questo qui lì? No, no, prima di braccio. Immagini questo tuo corpo. Sì. Guarda, colonna vertebrale, testa, iambe, braccio. Io inserisco uno qua, altro su quel colpo. E questo ring, questo anello, io posso girare. Vedi? Ti metto una cintura. O qui. O qui. Sì. E da qui posso fare tante cose. Vedi? Sì. O qui. Vedi? Sì. Fai prima cosa. O qui. Tresa buona. Non fai così dura. A te serve cosa? Mobilità. Aspetta, non fai niente. Non fai solo questa cosa. Libera giù. Fai. Da una parte, dall'altra parte. Cambia l'altra. Fai piano. Adesso prova a girare questo anello. Giro, gira molto più profondo. Ancora, 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 ancora. Comincia con il ginocchio. Fai passo avanti con il ginocchio sinistro. Sotto la scela. No, no. Qua deve essere il tuo ginocchio. No, 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 no. Un talone, il ginocchio qui. O. Vedi? Inserisco. Vedi quanto profondo puoi entrare. Prova a abbassare la tua spalla sinistra ancora. Abba, destra, destra, qui. Questa destra. Mi vista? Sì. Abbassa un pochino. E' molto, ancora, molto più profondo. Prova a entrare con testa dentro. Oh, chiudi, triangolo. Chiudi. Ok, ok. Capisci?